contatto sul covid tra mario draghi e angela merkel il presidente del consiglio italiano ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la cancelliera della repubblica federale di germania al centro dei colloqui riferisce una nota di palazzo chigi vi sono stati gli ultimi sviluppi nella lotta alla pandemia anche in preparazione del global health summit che si terrà a roma il 21 maggio nel frattempo questa mattina la merkel insieme al direttore dell'organizzazione mondiale della sanità oms tedros edenom gebreyesus hanno annunciato la creazione di un centro globale di previsione e rilevamento dell'epidemia berlino la pandemia di covid 19 ha evidenziato le carenze dei sistemi di intelligence globali su pandemie ed epidemie ha detto il direttore dell'oms in una conferenza stampa i virus si muovono velocemente ma i dati possono spostarsi ancora più velocemente con le giuste informazioni i paesi e le comunità possono stare al passo con i rischi ha aggiunto gebreyesus il centro web for pandemic and epidemic intelligence sarà operativo a partire da fine anno con l'obiettivo di analizzare i dati velocemente nel dettaglio per prevedere prevenire tracciare e rispondere ai rischi nel mondo ci saranno più virus che emergeranno col potenziale di scatenare epidemia o pandemie ha avvertito il numero uno dell'oms i virus si muovono veloci ma i dati possono muoversi più velocemente con le giuste informazioni i paesi e le comunità possono trovarsi un passo avanti rispetto a un rischio emergenziale salvare vite italia germania sono impegnate al massimo contro il virus rispetto a un rischio emergenziale salvare vite italia rispetto a un rischio emergenziale salvare vite il numero uno dell'oms i virus si muovono veloce rispetto a un rischio emergenziale salvare vite il numero uno dell'oms i virus si muovono veloce